Il cartello che segna il confine tra la Puglia e il Molise è invaso dalle cartacce. Un biglietto da visita posto all'altezza del ponte sul fiume Fortore, tra Casanovo e Colletorto, che lascia solo immaginare lo stato della strada sul fronte molisano. Sono immensi i disagi per la viabilità lungo la provinciale 73 che collega il paese, oggi commissariato, ai centri della provincia di Foggia. Una situazione sempre più insostenibile che si riflette sulla già debole economia locale e va a penalizzare la viabilità dell'intero territorio. Parte della strada è infatti chiusa al traffico e devastata da una frana che risale addirittura a 13 anni fa. Da allora nulla è cambiato e nessun intervento è stato realizzato lungo l'arteria che conduce, peraltro, al bivio di Carlantino e alla diga di Occhito. Il fondo stradale è stato inghiottito dal dissesto e impedisce di fatto i collegamenti anche tra le contrate. Non solo. Dalla storica casa cantoniera fino al ponte sul fortore, le voraggini e altri ostacoli di percorso hanno letteralmente devastato la vecchia provinciale, un quadro assurdo e desolante che da tempo solleva le proteste dell'intera comunità in assenza di un intervento concreto che si è fatto sempre più necessario. Una questione di vera e propria sopravvivenza per il comune di Colletorto e per i centri limitrofi. Della vicenda si è interessato il portavoce di Fratelli d'Italia, Cosimo Mele, che ha raccolto decine di segnalazioni tra i residenti. I disagi sono immensi per l'agricoltura, per gli imprenditori, per le aziende agricole, per i vari allevamenti che si trovano a dover percorrere più volte al giorno questo tratto di strada. per portare i nostri prodotti in Puglia. Il disagio che viene creato da questa situazione di mancanza di viabilità. La strada si trova in uno stato indecente e impercorribile. Lo stesso Cosimo Mele, infine, ha rivolto un accorato appello alle istituzioni. Io vorrei fare un appello al Presidente della Regione Donato Toma, al Presidente della Provincia Battista, ai vari parlamentari molisani, a tutta la classe dirigente politica. Non ci abbandonate. Qui c'è da fare un intervento con urgenza, urgentemente, e non solo di un piccolo tratto, perché è tutta la strada, è tutta la SP73 bis che ci collega alla Puglia. Questo è l'unico collegamento che noi abbiamo con la Puglia. E si trova in uno stato disastroso. Non ci abbandonate. Non ci abbandonate a fare un intervento. Ecco. Environmental